primo agosto 2022, yes! ci siamo! Manuel Bigli, Cuglielo Di Marco, Fabrizio Fini Trionfo contest sul Suckstroming, giusto? Suckstroming, che sono le aringhe fermentate, non che ai conati, il primo che vomita, quindi gli deve uscire qualcosa dalla bocca, paga la cena agli altri due, le previsioni e i pronostici danno primo vomitante, però me la zuccherò a denti stretti, vai Guglielmi, madonna mia, mi viene già da vomitare adesso, sezione gonfia, madonna se gonfia, questo cazzo di coso abbiamo visto che come apre le scatolette fa cagare, perché vado? vai, siete pronti? Sì, date un bel respiro, scivolato, bene, dopo poi lo tagliamo tanto qui, no, vabbè, adesso mettiamo, vediamo, va, è il pello del diretto, non si apre la scatoletta, non si apre la picca a girare, deve prendere un secondo punto, forse, non ti trovi a girare, non ti trovi a girare da nascimento, che si apre la scatoletta, non ti trovi a girare da nascimento, non ti trovi a girare da nascimento, sto farsi di pollo, devo riprenderne un secondo punto, perché è un po'... pensavo peggio, per il momento pensavo peggio, per il momento pensavo peggio, Adesso, vediamo se non ha sgonfiato del tutto, magari. Sta aprendo? Non gira. Non gira, troppo più. Ma che spicciola. No, è meglio se stia lontano. Meglio se stia lontano. L'odore, no, è l'odore che le dà fastidio. No, sta riprendendo, sta riprendendo. Stiamo riprendendo, scusi, scusi. Dopo ho lasciato i due in ordine. Certo, certo, rimettiamo a posto a tutti. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Buon divertimento. Grazie. Sta andando? Ah, già ci siamo. Oh, oh. C'ha un po' quel lacre. Vuoi venire qui? Si sente un po' meglio. Vuoi venire qua? Qua, qua è, qua proprio sei dritto al vento, eh? Beh, non è neanche male, dai. Beh, non è piattivo. Sta bene o no? Beh, quasi piace anche un po', ti dirò la verità. C'è che tutta sta, tutta sta, tutta sta, tutta sta pubblicità negativa, non gliela vedo. Allora, solo un problema di apri scatola, perché la volontà qui è ferrea. ha dei livelli imbarassanti, è tanto... a meno che questo non debba essere giocato al contrario, perché dopo c'è un sbuto, viene sospetto che ci sia un qualche problema logistico, però una mezza scatola è arrivata, ci vorrebbe per con la forchetta, se noi riusciamo a scappellare, secondo me è già sufficiente. Vai, prova. Buglio, senza che ti tagli, esatto. Proviamo, intanto è aperto fin qua, no? Sì, sì. Arriviamo, eh. Sì, è vero. Pronto, non so. Aspetta, aspetta che c'è, 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 c'è. Sei? Ce l'hai? C'è, c'è. No, no, è aperto solo qui. E là no? Questo là? Dove? Bucco là? Bucco lì? Oh! Beh, non è poi così male, dai. Dov'è il bagno? Avevamo un amico che doveva venirci a trovare, evidentemente. Ma adesso è vero? Eh, sto diventando matto. Una friscata del gas. No, infatti non lo mai distruggiamo soltanto. Uh! Guardiamo? Ah, andiamo bene. Andiamo bene, non lo apriamo, non lo riusciamo ad aprirlo. No, però il liquido, il liquido c'è. Però l'odore si sente, dai. No? Sì, ma una sfocchiattona non riusciamo a... Ok, eccolo, vai, 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 vai. Sentimento c'è, ecco. Se volete passare da qua. No, io ho capito la puzza che sta facendo sta cosa. No, ma veramente. Volete venire a sentire? La sentite? Un pochino? Senti le mie mani? Ti ho toccato la forchetta. Senti? Sì. Eh? Porco Dio. E questa non la dovevi dire? Tagliamo. Questa la tagliamo, eh. Se vedete un taglio è perché c'è stata un'impercazione. Non c'è nulla che non... Ho detto l'apro io. Esatto. Ho detto l'apro io. Oh, c'è, 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 c'è. E' arrivato. Allora. No. Pianino per le manine. Esatto. Vale. 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 Mi asciugo le mani, eh. Che conto tanto. E' fuori dal schermo, eh. E' fuori dal fuoco dove c'è un concorrente che è andato un attimo dietro le quinte. Vespe. E' vivo, eh, però. Intanto... Intanto le vespe si sono interessate al prodotto. Allora. Allora, adesso tiriamo fuori il solstron. No, è perché abbiamo avuto un problema che abbiamo capito che tra l'altro è scaduto da otto mesi. E' sulla confezione dice questo. In più è un po' gonfio e quella è l'endica, esatto. No, ma si è spappolata. Pianino aveva conservato fresco ma è rimasto, sai, è agosto e abbiamo avuto, sì. Si sono spappolate completamente. Si sono spappolate, sono rimaste le rischine, le vespe vanno giù di testa, questa roba. Non c'è neanche niente da mangiare, ragazzi. Mi spiace per voi, ma... Cioè, si sono fermentate al punto che sono liquefatte. Che si sono liquefatte. Fai sentire quella trionfa che si attacchia. Vuoi sentire? Arriva, arriva. Io non lo trovo così terribile. No, non è terribile, facciamo vedere anche al pubblico che ci sono praticamente spappolate, ma purtroppo è... Quindi non le assaggia nessuno? E cosa assaggi che sono... Non c'è niente, non c'è niente. Si sono talmente fermentate che si sono sciolte. Se vuoi pilucchiamo una lischia, ma mi sembra necessario. ... Porco Dio, annusatelo. Siamo qui sopra. Io sono qua da prima. Fogli annusare la scatoletta come hai fatto con me. Un po' di pane. No, no. Voi non annusate. Loro se cosa fanno le merde. Parla mentre annusi. Io lo sto annusando, senti il rumore, vai Trionfo! C'ha la sua importanza però è... Ma va là, c'è un pubblico dietro di voi che sta... Sento odore di scalpi crudi! Sento odore di scalpi crudi! Stai sudando come un maiale a novembre e sta per essere macellato! No, rifai un giro di assaggi! Ma perché devi rompere il cazzo a me che ho fatto due degustazioni che non le fai neanche te? Ma che cazzo dici? Non respiro! È annusa! È annusa! Sudare, sudare! Sudare, sudare, sudare! No, infingi il dito sotto il baffetto! Esatto! Per bene! Cos'è che non si sente neanche il respiro? Infingo il dito? Esatto! Sì! 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 Vai! Un lavoro! Ha odorato ancora peggiori in realtà! Fai baffo! No no! Che cosa c'ha? Fai che ci rimane una gozza! Deve cagare il cassa a me Lui ha trovato la vittima oggi Oggi deve cagare il cassa a me Però va bene, domani è un altro giorno ragazzi Non toccare gli occhiali Arbitro Se esce del liquido è fatta Arbitro Non mollare Non mollare che il prossimo è due dita Sbocca sul tavolo, se no non vale No, vale tutto Nemmeno in pospio dai Prima che sbocca Guarda concorrenti nel rivino Che abbiamo? Cioè finisce con una patta? Donna Ognuno paga il suo? Evidentemente lui non molla Molli eh? No, facciamo un giro tutti È dura tirare dalla tasca È dura tirare dalla tasca Due dita Due dita Due dita No, no, annusa Sbocca 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 Oh, 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 oh Attenzione È fatta È fatta No, non molla Non molla Non molla, l'ho mandato giù L'ho mandato giù e niente cola dal naso ma non mola eh dai pari madonna mia dai puccettone chiudiamo? io direi pari no? buttiamo qui nella sabbia? allora vediamo dove buttare facciamo una roba magari lui adesso che ha detto pari è andato a fare un po di defaticante ah si è fatta è fatta niente dai fatta vabbè fatta c'è qualcuno del pubblico che